c'è sta il numero che scorre scorre il numero cominciamo pure oggi oggi si è scordato pure come se mettono i guanti guarda guarda il sinistro va a sinistra e il destro a destra secondo me ha preso due sinistri oggi si e via si parte ragazzuoli come sciamo andava bene bene eccoci un'altra giornata in compagnia dei motociclisti regione lazio un bellissimo fiume di moto anche qui ora un po di urbe in compagnia per raggiungere leonessa ma tu fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenuitu un antonio selvatico mamma mia sorpassissimo lo sia stefano i 199 cavalli di questa via 6.000 rr abbiamo anche un ottimo alessio con la street drive grande qui siamo nel gruppo di coda con il buon francesco che fa da scopa e non lascia indietro nessuno e che puzza di benzina in una maniera assurda ho visto un panci ho visto un panci il cabrax con il nostro marchetto il nostro marco che oggi ci apre il gruppo tra poco gli dovrò dire che io un pochettino aumento ah proprio così qua bella sta strada avevo detto che andavo piano ma che strada è oh ma che cazzo sta l'addio scusami peperì tanto oggi non siamo tantissimi poi ho visto che c'è antonio c'è stefano c'erano tutti porco due non posso parlare e fare le curve però eh un po di concentrations belli sti tornantini belli oddio guardate il navigatore guarda il navigatore come fa oddio quante curvette che arrivano venite nel gruppo motociclisti in regione lazio soprattutto se siete neofiti o se siete carabinieri guardalo come ce l'ho attaccato eh non ce l'ha fatta più orca tr***a calorifera oh orca tr***a oh guardalo guardalo dice tanto non mi metto la tuta oh ma non mi puoi stacca così avevo promesso a me stessa ho detto no non corro non mi faccio fregare e invece maledetto c'ho pure le fasce ma c'ho delle responsabilità guardate che curve che ci stanno qua via 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 qua via via Federico adesso Ma che sto a registrare Sto a registrare Oh Federico Te giuro io sono andato piano Però Lo vedi che ragazzo Ecco qua Non c'entro niente Te lo giuro Eccoci Ripartiti dalla terza tappa Stiamo salendo da Arquata del Tronto Qui passiamo dentro le zone terremotate E lo scenario un po' particolare Ecco appunto Guardate qua Stiamo salendo verso Castelluccio di Norcia Siamo in mezzo alla natura In teoria dovremmo Recuperare lungo la strada Altri due bei ragazzi dello staff Che ci stanno aspettando Eccolo là giù Salute Demo We are in paradise In Italia Fatta con gli alberelli Con che alberi volete sapere? Con i pini muchi Io passo eh Bello eh Noi stanno loro là Aspetti necco un attimo Ma quelli siamo noi Hola Ma questi sono nostri? Tutti? Com'è qui la storia? Tutto bene? Di vostro gradimento? Guarda come è fatto lungo Mi voglio ammazzare Mi voglio ammazzare Scusa ma perché sono venuto con te? Posso spegnere? Sì Ciao Ciao Ma stanno con noi? Sicuro? La Ducati Rossa E' il casco tricolore Segui a lui Me ne sa che abbiamo Blocato tutto qua Ce l'abbiamo su In piazza Vabbè c'ho una tacca di batteria E' stato molto bello Andare al Castelluccio di Narcia con voi Ci vediamo al prossimo giro Tu dammi le riprese Ma come faresti sempre di noi? Non lo so Camperai meglio Ciao Gotete gente Di ogni dove In questo paese Chiamato Castelluccio Of Norge Ci ha bello